Non sarà sempre così semplice, Peppa cara? Chi vuole giocare per primo? Scommetto che la creatura delle scosse sta camminando qui vicino! Veloci, amici miei! Andiamo prima che le scosse comincino di nuovo! Perché questi orangotangi non ci fanno passare? Benvenuti nell'aranceto degli orangotangi! Dove crescono le arance più succose e grandi! Gli starnuti del signore Chu stanno scuotendo i loro alberi! Adesso gli orangotangi dovete aiutare! Le arance prima che si spiaccichino dovete acchiappare! Dovrete muovervi veloci per prenderle di qua e di là!